ben trovati ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabio ambrosi.it lo so lo so lo so questo è il tutorial che molti di coloro che stanno seguendo il corso introduttivo ad after effect stanno aspettando in tantissimi mi avete scritto in privato piuttosto che qui su youtube o anche su facebook o instagram chiedendomi a quando ci fai vedere come funzionano i green screen come si può rendere trasparente una un'immagine utilizzando un telo verde o un telo blu e io rispondevo pazienza pazienza ne parleremo ne parleremo siamo giunti alla lezione in cui parliamo molto sommariamente del chroma key ok cos'è il chroma key beh qualche lezione fa abbiamo parlato della trasparenza in after effect e io vi ho detto esistono tre modi tre tecniche grandi linee per creare trasparenza in generale nel mondo della grafica e dell'editing video e dei contenuti multimediali una tecnica sono le maschere e l'abbiamo vista nella scorsa lezione un'altra tecnica è sfruttare la luminanza e ne parleremo nella prossima lezione e la tecnica forse più conosciuta è quella del chroma key ovvero in maniera proprio detta terra terra del green screen del bluescreen o in generale del chroma key cos'è un green screen beh lo abbiamo già accennato qualche lezione fa il green screen è uno schermo verde vale a dire un telo sostanzialmente in maniera molto semplificata di colore verde o blu generalmente sono questi colori non presenti sulla pelle umana che possiamo utilizzare come chiave per dire in questo caso ad after effect rimuovi questo colore e genera la trasparenza ecco io posso andare a rimuovere il colore verde come fatto in questa immagine se andiamo a vedere la nostra scacchiera della trasparenza vedete che la nostra ragazza che balla è completamente scontornata e viene diciamo resa non lei trasparente ma lo sfondo viene reso diciamo trasparente questo vuol dire che noi possiamo inserire sotto scritte piuttosto che immagini quello che vogliamo beh ho preso l'immagine più sfortunata no perché questa chiaramente è un'immagine che non è completamente circondata da un green screen questa giovane ragazza balla ma come potete vedere c'è una finestra qui sulla destra e un'altra area non coperta da verde sulla sinistra è qui che entrano in gioco le altre tecniche per creare trasparenza che abbiamo visto per esempio nelle elezioni precedenti quindi per esempio le maschere quindi io nel creare la trasparenza utilizzerò ovviamente anche le maschere no in maniera tale da poter togliere gli elementi che so non impattano sulla ragazza in questo caso abbiamo una persona completamente trasparente ok o meglio una persona un video con un background trasparente che altro non è essere il verde dello schermo retrostante ho preso questa immagine non a caso perché se andiamo a vedere il filmato originale togliamo un attimino le maschere così ci rendiamo conto di quello che sto dicendo dicevo preso un immagine un po particolare perché se mandassi in play ecco vedrei per esempio che ci sono dei cambiamenti di luce importante importanti questo è quello che in genere non deve mai accadere in un green screen quindi questa immagine cade proprio come si dice in gergo a fagiolo perché ci mostra una delle caratteristiche importantissime che deve avere un telo verde ovvero l'uniformità ora si può lavorare con un video tipo questo dove la luce cambia spesso beh sì si può fare con un po di accorgimenti e stando un pochettino attenti riaccendiamo il plug in riaccendiamo le maschere e vi mostro come molto rapidamente e molto sommariamente si può fare sempre meglio ma per lo scopo di questo tutorial va bene anche i cambiamenti di luce diciamo possono essere in qualche modo utili no per illuminare la ragazza e dare un effetto insomma di di flash un effetto di cambiamenti di luminosità anche nel corpo della ragazza è chiaro che bisogna essere attenti bisogna lavorare un pochettino perché come potete vedere in alcuni punti il bianco del green screen che adesso vi mostro rende diciamo complesso creare la trasparenza quindi occorre comunque avere degli accorgimenti quando si riprendono le immagini sul green screen una buona norma è sempre separare il soggetto dallo sfondo e illuminarlo con una luce dedicata in maniera tale che i cambiamenti di luce sul corpo della ragazza non vadano in alcun modo ad influenzare il verde che per quanto possibile deve sempre essere il più uniforme possibile facciamo un altro esempio via perché abbiamo selezionato altre immagini più semplici questa volta prendiamo per esempio questo ok vediamo cos'è a questa una bella tecnica ovvero quello di utilizzare uno schermo verde per esempio per riprendere dei fenomeni fisici ora ovviamente questa esplosione non è reale che generata al computer anche questa però può essere un esempio se avete voglia non so e soprattutto lo spazio di per non so far lavorare con l'acqua ok o con la polvere e utilizzate uno schermo verde potete in maniera anche abbastanza rapida e senza troppe complicazioni a patto che le riprese vengano fatte bene con uno schermo che sia uniforme come in questo caso questo è uno schermo finto ovviamente non è stata fatta una ripresa vera di questa esplosione però per rendere l'idea vedete che quando abbiamo uno schermo verde molto omogeneo ecco creare la trasparenza è veramente una questione di un click ok vedete che questa è l'esplosione in questione e il background è stato completamente rimosso ripeto ripeto in questo caso era semplice perché background era finto è ovviamente non è stata ripresa un esplosione dal vivo però se avete spazio e riuscite a fare un buon schermo un buon croma omogeneo potete giocare non solo con le persone ma anche per esempio con la polvere con l'acqua con con vari oggetti e divertirvi a creare la 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 trasparenza molto molte volte si utilizza non so il fumo no se si hanno gli spazi ovviamente tutte le precauzioni tecniche per fare queste cose perché chiaramente giocare con il fuoco è sempre pericolosissimo quindi non fatelo però se avete modo di giocare non so con il ghiaccio secco per esempio che genera una sorta di fumo no di un bell'effetto e avete la possibilità di avere un green screen o un telo verde o un qualcosa di verde potete divertirvi a creare dei bellissimi bellissimi effetti il green screen spesso e volentieri viene utilizzato in unione ad altre tecniche per esempio il tracking no abbiamo qui una classica scena immaginate un film o una serie tv come il trono di spade ok dove avete dei set stupendi e avete delle degli scenari meravigliosi che si vedono per esempio dalle finestre chiaramente a meno che voi non abbiate un castello e la fortuna di avere degli scenari meravigliosi fuori al castello spesso si utilizza quella che viene chiamata tecnica del set extension vale a dire si fanno le riprese su un set che può essere una una casa piuttosto che un appartamento o anche un castello se avete la possibilità ma sostituire per esempio quello che si vede al di fuori con uno schermo verde che poi utilizzeremo per aggiungere altri elementi molti si staranno chiedendo e lo dico subito così mi risparmio decine di commenti e mi risparmio molte mail dove trovare un po di materiale gratuito con cui giocare bene questo sito che vi linkerò tra i commenti se cercate la parola screen per esempio green screen anche vi dà la possibilità di scaricare gratuitamente per fare dei test diversi footage simpatici ok già con un chroma o finto chroma con cui con cui giocare chiaramente per esercitarvi con questa tecnica tra poco pochissimo vedremo quale strumento utilizzare in after effect per generare appunto la trasparenza come abbiamo fatto come ho fatto poc'anzi ecco per esempio questo è il classico esempio di un green screen che è utile per esempio per sostituire il contenuto di un di un di uno schermo allora io su questo sito ripeto lo linkerò tra i commenti scarico questo materiale lo vado a scaricare nella mia cartella in cui ho inserito il progetto di questa lezione lo importo vado veloce perché ormai queste cose sapete come si fanno e lo importo ok questo è il classico caso in cui io per esempio ho una ripresa ok è chiaramente una ripresa virtuale questa non è un set reale ad occhio però ho uno schermo verde facciamo un esempio vediamo se troviamo qui un video per esempio mountain vediamo cosa esce fuori con questa chiave è un bel sito questo perché ci permette di scaricare non solo video ma anche immagini ripeto il sito lo troverete nei commenti per esempio ipotizziamo di avere non so questa cascata queste montagne in movimento un'immagine vale l'altra prendiamo questo tramonto per fare la prova scarichiamo questo video ovviamente il mio consiglio è lavorate sempre alla risoluzione ma massima che vi è permesso con il per il vostro computer e posizioniamo il video al di sotto vi dico subito come si fa a lavorare col green screen in after effect tra gli effetti cercate la categoria tipo di trasparenza e scegliete l'effetto che il a key light 1,2 questo è un plugin molto bello e magari ne parleremo in una delle prossime lezioni nel dettaglio che vi permette di selezionare il colore che volete bucare in questo caso il verde ed ecco quello che stavo già dicendo il gioco è fatto vado a scalare l'immagine retrostante e vedete che ho in poco tempo sostituito ecco qua il mio schermo con un video scaricato ok questo è il classico esempio per cui si usano i green screen per esempio quando si lavora con i set virtuali o con il set che poi richiedono in qualche modo una post una lavorazione successiva in post produzione ok vi ho detto prima che alcune volte la tecnica del green screen viene utilizzata per esempio con il tracking cos'è il tracking in parole molto povere se io ho un'immagine tipo questa ok quindi una persona che va e apre la porta mi ricorda molto matrix questa cosa vi garantisco e se andate a cercare i making of di matrix credo che sia revolution o reloaded il secondo la scena in cui neo apre le porte si ritrova in altri in altri luoghi sono girate con un chroma key ok quindi ipotizziamo che il nostro amico qui apre la porta e si ritrova insomma in questo paesaggio marino che abbiamo poco anzi scaricato cosa cosa andiamo a fare andiamo ad applicare l'effetto trasparenza key light 1,2 scegliamo il colore che vogliamo bucare e chiaramente vedete che dovete stare un pochettino attenti è perché chiaramente questa è un'immagine ve lo faccio vi faccio vedere cosa intendo che ha delle delle dei punti un pochettino verdognoli quindi questo plugin di default funziona quando il green screen è perfetto ma di default chiaramente deve essere deve essere aggiustato quindi è una tecnica complessa ecco perché non vado nel dettaglio adesso vi sto soltanto facendo vedere rapidamente cos'è un green screen vedete che quello che è bianco è solido quello che è nero è trasparente vedete che ci sono delle aree che sono semi trasparenti ora si può migliorare questo green screen ma vi spiegherò magari in un tutorial futuro come funziona tutto questo ok l'importante è che adesso per lo scopo di questo tutorial vediamo un attimino di sistemare le cose ecco qui abbiamo sistemato con un po di click ribadiscono vi preoccupate poi di queste cose magari ne parleremo un po meglio perché sono tecniche che come capirete richiedono tempo sia per impararle che per spiegarle ma lo scopo di questa lezione è mostrarvi cos'è un chroma key e come funziona e vedete in questo caso la persona apre la porta e si ritrova praticamente in un set marino ed è molto credibile come potete immaginare da sony ok rivediamo questa scena dal principio adattiamo la grandezza del fotogramma allo schermo che ho qui quando in play vedete cosa intendo olè dicevo queste tecniche vengono spesso utilizzate con il tracking il tracking ne parleremo più avanti quindi non vi preoccupate se troverete difficile quanto sto per dire il tracking è una tecnica che sostanzialmente ci permette per esempio in questo caso la camera si muove lentamente verso questa finestra ok o questa porta quello che volete insomma se io andassi a rimuovere il verde come abbiamo fatto poc'anzi con l'esempio della porta guardate cosa accade chiaramente l'immagine al di sotto si vede perché chiaramente il verde viene rimosso andiamo a restringere però guardate cosa accade quando mandi in play ok sostanzialmente l'immagine dietro resta ferma come potete vedere c'è un problema abbiamo problema houston abbiamo un problema esistono delle tecniche che ci permettono di ingrandire questa immagine a mano a mano che la nostra camera si avvicina e quindi sostanzialmente traccare quindi andare a leggere i movimenti di questa camera che si avvicina e far comportare il livello sottostante di conseguenza questa è una spiegazione velocissima solo per darvi un'idea di cosa si intende per tracking ma ne riparleremo qui c'è anche il tema della parallasse della profondità ripeto tecniche complesse che non sono oggetto di questa lezione quello che abbiamo voluto mostrare qui è soltanto quello che è il green screen è quanto sia utile imparare ad adoperare il chroma key in generale per creare la trasparenza prima di chiudere una nota importante perché in questa lezione ho parlato solo di green screen ma in realtà vi mostro come la stessa cosa sia applicabile per esempio a un blue screen il concetto è identico ok in questo caso quando l'immagine ferma e molto separata da dal nostro soggetto possiamo anche scegliere per esempio di utilizzare una maschera come abbiamo fatto per esempio nella lezione precedente ok utilizziamo una maschera in questo caso andiamo ad invertire la maschera ed ecco che abbiamo creato praticamente lo stesso effetto che stiamo per creare con un classico blue screen in questo caso quindi con un classico chroma key però se volessimo adoperare il chroma key in questo caso il concetto è lo stesso solo che invece di rimuovere il verde rimuoviamo il blu ma attenzione ancora una volta quello che stavo dicendo prima anche questo è blu anche la signorina ha un vestito blu e questa è una raccomandazione che spesso si fa quando si lavora negli studi televisivi con il green screen alle persone mi raccomando non mettete il colore addosso dello sfondo a chi altrimenti sarà difficilissimo soprattutto per i programmi in diretta o che devono essere finte dirette rimuovere diciamo lo sfondo senza bucare anche il soggetto ovviamente lo ripeto lavorando un pochettino visto che questa tonalità di blu è differente da questa tonalità di blu lavorando un pochettino qualcosa si può fare ok quindi andiamo a visualizzare quella che è la maschera in questo caso del chroma e aggiustando alcuni parametri si può migliorare leggermente la situazione non troppo perché chiaramente come potete vedere c'è un limite a tutto in questi casi per esempio in questo caso specifico il chroma key visto che il soggetto è completamente separato dallo schermo come avete visto prima la maschera è la scelta migliore però alla fine in realtà quello che conta in realtà è il colore vi faccio vedere cosa intendo con quest'ultimo esempio se invece di rimuovere il verde volesse rimuovere il rosso del vestito della ragazza ecco che in un secondo posso indicare al programma di rimuovere il rosso ok e vedete che però abbiamo degli effetti collaterali anche sulla pelle della ragazza che chiaramente ha delle componenti di rosso ecco perché si utilizza il verde tendenzialmente o mi fermo mi fermo nella prossima lezione andiamo avanti a parlare di trasparenza che è un concetto importantissimo in after effect e nella grafica in generale e lo faremo parlando della trasparenza generata dalla luminanza quindi dalle maschere di luminanza altro argomento molto affascinante che però affronteremo meglio nel prossimo video tutorial vi ricordo che questa è questa lezione è parte del corso introduttivo da after effect qui sul canale youtube trovate la playlist completa con tutti i corsi o meglio tutte le lezioni fatte fino ad ora c'è anche il corso introduttivo a premiere pro iscrivetevi a questo canale se vi è piaciuto questo video mettete un like condividetelo con i vostri amici cercatemi su facebook su instagram mi trovate insomma sui principali social network grazie ciao al prossimo video tutorial